è la vigilia di natale e gli abitanti di car city sono pronti per l'arrivo di babbo natale aspetta! chi è quello? potrebbe essere... non può essere lui vero? oh no! sembra che sia nei guai! l'unico modo per salvare il natale è chiamare super truck carl c'è un'emergenza! la slitta di babbo natale si è rotta e bisogna salvare il natale di car city è meglio che tu corra alla tua grotta a trasformarti a presto! a presto! sai già in quale veicolo ti trasformerai carl? a presto! a presto! wow! sei la slitta più grande e più luminosa che si sia mai vista super truck! caspita super truck! sembra che ci siano un sacco di regali da consegnare quest'anno! ecco! perfetto! ecco! perfetto! ecco! perfetto! quello è il garage di tom! quella è la pista! siamo all'aeroporto! sembra che penny e hector siano stati buoni tutto l'anno! e adesso siamo all'ospedale! lì c'è Amber! è addormentata! ecco! 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 le babycar saranno felici di trovare una nuova altalena al parco giochi! e anche la stazione di polizia è fatta sembra che abbiamo finito supertruck ottimo lavoro supertruck hai reso molto molto felici tantissimi abitanti di car city e uno in particolare ciao a tutti buone vacanze alla prossima ciao charlotte ciao gerry è la gara di auto più importante dell'anno oggi siete emozionati ti divertirai molto alla gara gerry ma charlotte tu sembri un po preoccupata oh mamma hai da portare tutti quei veicoli alla pista la gara inizia alle 5 del pomeriggio come pensi di cavartela grande idea gerry vai a chiamare supertruck qualcuno a car city ha bisogno del tuo aiuto supertruck wow sei già nella tua grotta pronto a trasformarti in cosa ti trasformerai supertruck in cosa ti trasformerai supertruck stupefacente 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 corriamo ad aiutare charlotte supertruck supertruck è arrivato ad aiutarti charlotte supertruck sembra che questi ragazzi siano felici di vederti supertruck ora come pensi di fare per portare queste auto alla corsa in tempo buona idea supertruck se tu prendi metà delle auto e charlotte prende l'altra metà ci sarà spazio per tutti bel lavoro di squadra e adesso tutti alla gara eccoci qua eh o o o o o o o o o Charlotte apprezza molto che tu l'abbia aiutata a trasportare tutti alla gara in tempo, Super Truck Quando tutti lavorano insieme per completare un lavoro, c'è più tempo per giocare insieme Grazie per aver salvato la situazione Arrivederci alla prossima! Ciao Sam! Wow! Hai molta neve da spazzare oggi! Guarda quanti veicoli aspettano che tu sposti la neve per poter passare! Ci sono anche Lily e Amber! Ciao Lily! Ciao Amber! Ci credete quanta neve abbiamo avuto? Di sicuro è arrivato l'inverno! Oh no! Sam! Sei là sotto? Non lasciarti abbattere Sam! Avrebbe potuto accadere a chiunque! Oh no! Amber! C'è un'emergenza fuori città ed un veicolo ha bisogno di te! Come farai? Non puoi andare avanti qui con tutta questa neve! Hai ragione Lily! Sam ha bisogno di aiuto! Dovremmo chiamare Super Truck! Ok! wow siamo nella tua mitica grotta delle trasformazioni sai già in quale veicolo ti trasformerai? oh un super spazzaneve ovviamente wow guardati supertruck torniamo subito dagli altri in modo da aiutare Sam con la neve ciao 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 non ti preoccupare Sam stai facendo un ottimo lavoro supertruck può spazzare via molta neve rapidamente ma tu sei bravissimo a fare altre cose come spazzare questo marciapiede ad esempio supertruck è troppo grande per spazzare questo punto ma tu sei della dimensione perfetta fantastico Sam grande lavoro di squadra ragazzi avete sgomberato quasi tutta la strada ora è il momento di giocare vai a casa adesso supertruck ok grazie per aver salvato la situazione ehi chi è stato ? arrivederci a tutti alla prossima è una grande giornata al monster truck stadium di car city e sembra che lo spettacolo stia per cominciare ehi c'è Tom tra la polla e là c'è marci intento a fare alcuni salti impressionanti e si sta solo riscaldando oh cavolo marley ha avuto un incidente abbastanza doloroso si direbbe anche per un monster truck speriamo che stia bene hai ragione Tom lo spettacolo inizia tra pochi minuti non c'è abbastanza tempo per riparare marley buona idea Tom forse Carl può prendere il suo posto mentre tu porti via marley per ripararlo ma in primo luogo chiamiamo supertruck ehi Carl marley ha bisogno del tuo aiuto si è fatto male mentre si allenava per il monster truck show e adesso ha bisogno che tu prenda il suo posto userai il tunnel segreto per scendere alla tua caverna? quale container sceglierai Carl? inizia il tunnel? non so pronto per andare a mettere in piedi un mostro di spettacolo? grande! l'ascensore ti può portare allo stadio! fantastico! supertruck è qui per prendere il posto di marley nello spettacolo! vai così supertruck! sembra che stia per mostrarci il suo numero migliore! oh farà male quando atternerà! guardate è ancora in aria! praticamente vola! ragazzi sono contenta che siate tornati in tempo per vedere la fine dello spettacolo! supertruck sta facendo una performance incredibile! questo poi era stupefacente non c'è da meravigliarsi che tutti siano in fila per avere l'autografo di supertruck! persino marley vuole l'autografo di supertruck! ma per supertruck marley è il monster truck originale qui e vuole la firma di marley! che giornata emozionante! supertruck ha messo in piedi un grande spettacolo mentre tom portava marley a riparare! e tutti hanno potuto incontrare il proprio eroe! siete i migliori ragazzi! che bel lavoro state facendo a sistemare queste buche ragazzi! ehm henry dovresti guardare dove stai... oh oh! andando! oh no! Oh, siete bloccati! Hai visto cosa è successo, Ela? Faremo meglio a chiamare Super Truck! Carl, è il segnale! C'è stata una fuoriuscita di cemento, Carl! Puoi aiutarci? Quale veicolo sarai? Oh, è quello che penso che sia! Oh, Hobbit! Wow, Super Truck! Assomigli proprio a Toh! Hai anche i suoi poteri! Sbrighiamoci! Henry, Steve e Christopher sono intrappolati! State tranquilli, ragazzi! Super Truck, volevo dire, Thor è qui per salvarvi! Siete tutti inzaccherati di cemento! Oh, hai un'idea? Oh, è una tempesta! Wow, ecco come vi laverete! Ehi, siete tutti tornati puliti! Grazie, Thor! Hai salvato la situazione! Arrivederci, amici! A presto! A presto!